è halloween ed è la notte di jack lanterna riesce a scovarlo in questa notte scura un bagliore viene dal bosco i pipistrelli spaventati scappano a più non posso è jack lanterna che qui brilla e ti sorprenderà ma se sarai per primo tu a trovarlo il premio avrai proviamo ancora riesci a vedere jack lanterna adesso? le zucche sono tante di ogni forma e varietà ma è solo una che stanotte vita prenderà è jack lanterna che qui brilla e ti sorprenderà ma se sarai per primo tu a trovarlo il premio avrai non è così facile trovare jack lanterna vero? proviamoci ancora una volta ma se sarai per primo tu a trovarlo il premio avrai è jack lanterna che qui brilla e ti sorprenderà ma è dietro gli occhi di un di loro che un bagliore vedrai hai scovato jack lanterna o ti ha trovato prima ma lui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti